Donna Ambiente Innovazione Se ti capita di essere eletta Presidente Nazionale di Lega Ambiente, la più grande associazione ambientalista italiana, sai che il rischio di essere anche solo una bandiera è dietro l'angolo. E quindi io ho deciso fin dal primo giorno di fare due cose. Innanzitutto di fidarmi della mia associazione, che mi stava dando una straordinaria occasione. E poi di fidarmi del mio istinto e di cercare di interpretare questo ruolo, non appunto come un ruolo, ma mettendo al centro il cuore. Che è un tema importante. Io penso che quello che noi possiamo affermare, anche e soprattutto come donne, è che c'è una dignità nel ricoprire un ruolo di potere, con una dignità pari appunto tra il sentire e il pensare. Le donne hanno menti eccellenti, ma la capacità di sentire, di entrare in empatia, di sapere che cosa ci si aspetta, di cogliere la realtà che ci circonda. Ecco, io penso che questo possa essere una chiave in più, una chiave importante a cui dare dignità e attenzione. E allora anche l'ambientalismo può accogliere questo nuovo modo di guardare la realtà. Oddio, l'ambientalismo sì che è un brand antico, eh? Eppure l'ambiente è un terreno privilegiato di innovazione. Ormai tutti si occupano di qualità dell'aria, di qualità del cibo, del territorio, parliamo di rischio idrogeologico. In un paese in cui i maschi diventavano adulti con l'acquisto dell'automobile, parliamo di car sharing, di mobilità dolce, quella che ti fa scoprire il territorio senza consumarlo. Parliamo di dieta mediterranea, abbiamo visto crescere il consumo del biologico del 25% nel 2015. E quindi tantissime cose stanno cambiando. L'ambientalismo, l'ambiente non è più un argomento per poche elite, ma è invece un sentire comune, anche fonte di partecipazione, di mobilitazione territoriale. E questo sì, questo sì che è una straordinaria novità. Ma per favorire questo cambiamento noi dobbiamo sapere interpretare le relazioni che incontriamo e anche cogliere il bisogno di cambiamento. E' un po' come nella nobile arte dell'Aikido. Questa non sono io, perché io sono un terzo Q, lei è una maestra Dan, ma insomma tempo al tempo anch'io avrò la cama, i pantaloni neri. Nell'Aikido si dice che l'avversario, comunque la persona che pratica con noi, non va affrontata di petto, ma bisogna sfruttare, entrare nel suo cerchio e sfruttarne la potenza. Ecco, è esattamente questo, cogliere il centro degli altri, il punto di vista dell'altro. E da questo punto di vista noi donne abbiamo un potere privilegiato e l'ambiente è uno strumento di cambiamento, un luogo privilegiato del cambiamento. Per le cose anche che prima dicevo, io sono una donna, ma sono donne anche il presidente nazionale del WWF, il presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, la vicepresidente di Slow Food, la vicepresidente di Italia Nostra. Questo perché le donne hanno capito da tempo che l'ambiente è un luogo del cambiamento, ma lo è se si ha la capacità, io credo, di appunto mettere insieme l'innovazione, la qualità ambientale, la relazione, dico io, e l'essere donna. E allora vi racconto come io ho provato a interpretare sin da subito questo triangolo magico tra queste tre parole che creano un flusso. E ve lo dico attraverso due episodi. Questa purtroppo è un'immagine che noi conosciamo bene, il 24 agosto alle 3.34 del mattino, un terremoto nel centro Italia, devasta Matrice, ma anche i centri di Arquata, sono tantissimi comuni coinvolti. Tra le 3.34 intorno alle 9 il mio cellulare inizia a squillare, i giornalisti, alcuni giornalisti, insomma non decine, mi chiedono interviste, dichiarazioni via radio, in televisione. Io rifiuto di apparire, non perché sono timida, ma perché penso che in questo momento c'è bisogno di memoria, sicuramente, c'è bisogno che una forza come la Lega Ambiente dia il proprio contributo in termini di spiegazione del fenomeno, di quello che è successo, perché quelle case si sono frantumate, ma che possano farle ottenimento un geologo, che è il nostro responsabile scientifico, e un architetto, che è il nostro vicepresidente nazionale. E quindi io faccio un passo indietro, decido di coniugare la memoria, la forza della memoria dell'associazione, con la dignità del pudore, con la dignità del pudore, memoria e pudore. Il 10 settembre sono stata ospite dei giovani industriali, lo sono stata all'interno del circuito di Misana Adriatico, mentre erano in corso le prove del GP in moto, c'era anche Valentino Rossi, abbiamo fatto un dibattito sull'economia circolare, hanno creato un nuovo format, potete intervenire in un minuto e trenta, che era il giro di pista, perché poi passavano le moto e non si sentiva niente, l'ho trovato geniale, molto divertente. Io credo che l'altro fronte importante di rinnovamento sia la voglia di dialogare, di confrontarsi, anche di lasciarsi contaminare, di soprattutto dialogare con chi è diverso da noi. Guardate, questo è assolutamente necessario, capire il punto di vista dell'altro, non per assumerlo in maniera critica, ma per capire qual è appunto il punto di vista diverso su una stessa questione. Dialogo e contaminazione. Come potete immaginare, queste due scelte hanno avuto molti apprezzamenti, ma ho ricevuto anche delle critiche feroci. Ecco, io credo che invece noi donne abbiamo un punto privilegiato in cui partecipare al cambiamento, e questo è il mio modo di dare il contributo. Un contributo che passa appunto per la capacità di mettersi in discussione, di incontrare il diverso, di non essere limitate della propria sensibilità, ma anzi usarla come forza di cambiamento. Tutto a posto allora? No, assolutamente no. Questi sono due poverini, non vi lasciate ingannare dalle facce astute, sono due poverini, si chiamano Simone e Samuele. La loro mamma viaggia tantissimo, ha un lavoro che l'appassiona, spesso è assente, li affida ad altri. Loro sono i miei bambini, naturalmente. Ma che fine hanno fatto i tuoi figli poverini? Dove sono poverini? Questa è la domanda che le donne che lavorano si sentono ripetere più spesso. Ecco, io penso che loro facciano parte della mia forza, ne fanno parte loro ma ne fanno parte tutti i bambini, perché quando uno si occupa di ambiente, di qualità ambientale, guarda tantissimo alle generazioni future, e che loro non possano e non debbano essere un limite, ma invece, come dire, una forza motrice che ci spinge in avanti e a partecipare. Credo che da questo punto di vista il contributo delle donne sia eccezionale, ma io vi voglio raccontare altre quattro storie. Io qui con me oggi ho portato altre quattro donne, casomai non fossi riuscita a convincervi. Sono quattro donne straordinarie. E vi dico come interpretano questo triangolo del cambiamento. Lei è Daniela Ducato, è un'impenditrice sarda di Guspini e ha scoperto che i residui della lavorazione agricola, vino, uova, ma anche lana, sono straordinarie risorse da mettere a disposizione. Quindi con la lana ci si fa efficienza energetica in edilizia, si fa bioedilizia. Con il vino si colorano le pareti. Questa donna ha creato un impero economico. E Daniela dice due cose, secondo me, molto interessanti. Innanzitutto, la contaminazione tra le arti. Lei ha avuto questa idea leggendo il diario del giovane regista Tornatore, che in viaggio in Sicilia raccontava l'autosufficienza di un'azienda agricola, raccontando appunto la capacità in agricoltura di riutilizzare gli scarti agricoli e di rimetterli in circolazione. E poi da una poesia che parla di farfalle, una poesia di Gattuso, che dice appunto nell'innovazione, nella strutturazione di una farfalla, ha trovato l'idea per un nuovo materiale. Credo che sia importante questo concetto di compenetrazione. E poi Daniela ha creato la Casa Verde, che è un network di 75 aziende che fanno innovazione in edilizia e condividono i saperi, condividono i saperi. È un modo per procedere tutti insieme. Lei è Filomena Pucci. Filomena sostiene che il segreto è fare della propria passione la propria impresa e ha raccolto la storia di 80 donne che in Italia sono diventate imprenditrice credendo nelle proprie passioni e trasformandolo in business. Lei è Giussi Nicolini, è il sindaco di Lampedusa e di Linosa, è stata prima direttrice della riserva naturale orientata di Lampedusa, dove convive turismo di massa e in edificazione delle tartarughe. Ma questa piccola donna molto dura, molto concreta, è anche la persona che affronta sulle proprie coste, sulla costa della propria isola, lo sbarco di migliaia e migliaia di migranti. Lo fa in una solitudine vergognosa. E Giussi ha detto, subito dopo uno degli ultimi naufragi, questi morti sono i miei morti, perché nessuno rivendicava quei corpi. E lei giustamente pretendeva le condoglianze di tutti, perché lei invece assumeva su di sé il dovere dell'ospitalità e anche il racconto di quella tragedia che stava accadendo. Settimana prossima Giussi sarà a Parigi, insieme alla sindaca di Parigi, all'Opera, per chiedere all'Europa di aprire un corridoio umanitario e soprattutto finalmente di occuparsi di questa questione, non come un'emergenza, ma leggendo un processo in atto. La storia va avanti e il cambiamento non può essere fermato. Infine Katia Bastioli, questa donna, ragazzi, ha inventato l'alternativa alla plastica. Quando voi andate a fare la spesa, adesso usate il sacchetto in Mater B, è lei che l'ha inventato, il polimero alternativo alla plastica. Ha creato un impero che è la Novamont, adesso è anche presidente di Terna. Lei è una scienziata che ha saputo essere anche manager e anche straordinaria comunicatrice. Prima si parlava dei saperi che si intrecciano, l'interpretare più ruoli e più funzioni. Ecco, queste quattro donne io credo che abbiano interpretato al pieno, e molto meglio di me sicuramente, questo triangolo magico. Ma io credo che anche nell'ambientalismo ci possa essere questo tipo di cambiamento. Se si parla di cura, di empatia, di partecipazione, basta con l'ambientalismo che si limita a conservare. È bene invece che l'ambientalismo scenda in campo, che sappia accompagnare il cambiamento, mettersi in gioco, metterci la faccia, entrare nelle contraddizioni. Piccola provocazione, questa è Venezia, sono sicura che se quando hanno pesato la prima pietra ci fosse stata un'associazione ambientalista, avremmo assistito alla difesa di quella straordinaria zona umida, cercando di impedire la costruzione di questo. Ecco, io penso che quello che noi possiamo fare è abbandonare una concezione di ambientalismo classico e invece sviluppare un'ecologia delle relazioni. Non so se è troppo innovativo, ma io so che ogni tradizione è un'innovazione che ha avuto successo. Quindi ho grande speranza. Grazie. 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 Grazie.